Dopo poi stavo fermo a casa, dico adesso cominciano gli europei. A chi posso chiedere aiuto? Ovviamente se alzato Orozzo Canale, dico a me e a chi se no? Ah, che cosa posso? Io sono Orozzo Canale, tu sei Orozzo Canale. Da disposizione a questi giocatori di come devono giocare. Appunto, non dovevo pensare, dico io. Allora comincio a scervellarmi, chi posso chiamare? Mancini non lo conosco. Mi viene in mente, mio figlio fa, ma non avevi il numero di Chiellini? Una volta, ah, Chiellini, capitano. E chiama Chiellini, la sera prima, la sera prima dei mondiali, degli europei. Chiellini sono, non baffi, mi chiami per piacere che ne ho dire una cosa e mi arriva subito dopo un messaggio, vaffanculo brutto strozzo. Sono diventato scelto. Poi, dopo una mezz'oretta, mi arrivò l'altro messaggio. Dio, ma sei veramente tu? E io, sì, sono veramente io. Oh, perdonami, io credevo che era uno scherzo, ho mandato a quel paese. Parliamo, io mi sento il tuo ripoto, lo sai che ti voglio bene da tanto tempo? Sì, senti, io pensavo di fare un messaggio a tutti i giocatori per farvi sorridere un po' perché domani dovete vincere, mi raccomando. E lui fa, sì, sì, fanno, ce lo faccio vedere al mister e lo vediamo tutti quanti insieme, ragazzi. feci subito e dissi a mio figlio, quello è apprezzato mio figlio, sa che qualunque cazzato che mi ha in mente, lo ha lito e lui me la registra. E io gli disse, caro capitale, fai, dov'è mister? Ah, eccolo, mister avvicinati come se li vedessi, no? Se ti volevo dare degli insegnamenti per domani, mi raccomando, tu sei stato a Comerciano, c'è stato sempre uno dei migliori, mi raccomando domani, questo è il modulo, seguilo alla letta. Intanto il 5-5-5, sappi che non è un metodo di gioco, ma sono le cose che devono mangiare i giocatori prima delle partite importanti. Per esempio, 5 pozzolosi, 5 cannolicchi, 5 aglievi e 5 polpetti. Una volta che fanno questa promessa di queste cose, sicuro che la partita si vince, invece il modulo da seguire è Spinazzola, che è anche il nome di un paese delle parti nostre della Puglia, di cui io, Spinazzola, immobile. Non è che Spinazzola deve stare fermo, immobile, che non si deve muovere, è scemo a darti a questa cosa. Spinazzola passa immobile, immobile segna, però la condizione qua non è che chi segna il gol mi dica vicino a una telecamera. Porca puttana, così io capisco che è dedicata a me. Tutto questo, il giorno dopo, per volere, non si sa di chi mi vuole aiutare, è successo veramente. Mio figlio scappa di costa perché abita l'appartamento di sotto, fa papà, ma che sta succedendo? Ma non è che tu hai dei poteri che noi non sappiamo, sta succedendo quello che tu hai detto ieri. Qua, io dico, vabbè, ma figurati se adesso questo viene, stavo per dire, figurati se va a dire, porca puttana, invece ho visto il mobile che correva verso la telecamera e disse, porca puttana, poi ha segnato l'altro il signo, ha preso l'esempio di porca puttana, e da quel giorno io sono diventato, con l'aiuto di Orozco Canale, quello che è un consigliere della Nazionale, quello che fa vincere la Nazionale, e di lì è nato porca puttana. Giustamente quelli della cima hanno detto, ecco, pazzi, può fare la pubblicità, e dici porca puttana, ed è nata questa cosa. Alla fine, io ti dico, non lo so se esiste una mano che mi vuol bene e mi prende, in questa mano, secondo me, è considerato anche il fatto di stasera che si festeggia questo ritorno del figlio cronico che torna nella sua terra e prende un petriglio. Secondo me è sbagliatissimo, perché poi non c'è tra niente, se uno ci pensa solo un attimo, questo signore sono 50-60 anni che dice questa parola, parla quando parla il suo pugliese, quando lo ha sempre detto in mille occasioni, io ho spiegato su Rai Uno tante volte a ospite, ho detto che da noi è una parola che significa tante cose, significa meraviglia, significa gioia, significa dolore, perlomeno nel mio paese, questo, dice un secco, è quello che ho vinto due milioni a te d'ocalo, porca puttana, veramente, oppure lo sai che il cuore aveva avuto una sgrazia e si è tagliata la gama, oh porca puttana, vedi quante tonalità ci ha perdito, questo lo si è sempre spiegato, non meraviglio perché poi questa associazione che si presume sia un'associazione fatta da gente intelligente, scende a questo stupido particolare che dice i bambini si scandalizzano è poco una pubblicità che si chiama una grande azienda come la FIM, che non finirò mai di ringraziare perché finalmente faccio la pubblicità a un'azienda grande, un'azienda italiana, io sono abbastanza patriottico, mi chiamano Lino d'Italia, Lino nazionale, tanto che io qualche volta dico chiamatevi Lino di Mameni, non siamo prima. E' stato la vita a tutti i giornalisti hanno parlato contro di loro. Come fai a stabilire una fascia per i bambini e una fascia per i bambini a parte che i bambini fanno la pernacca a sentire queste cose che vuole dire. Anzi, proprio giorni fa il papà fa un bambino di 5-6 anni fai sentire il bambino dai, il bambino non voleva si vergogniamo, fai sentire il bambino fa poca puttana! Era come quasi un insegnamento di una parola che fa sorridere. Vabbè, intanto la riprendo, sto facendo sempre la complicità per la team, pare che rimangino un'altra volta quello della parabolica che io mi cazzo che non funziona.